Il settore dell'ortaggio è in piena crescita. Già l'anno scorso tantissime persone si sono affacciate al mondo dell'orto piantando zucchine, cetrioli, melanzane, peperoni e quest'anno ulteriormente c'è stata una importante crescita. Siamo riusciti a far fronte alle richieste dei nostri clienti grazie a un aumento della produzione di circa il 40 per cento e dico un aumento della produzione perché noi siamo produttori diretti partendo addirittura dal seme e quindi selezionando sul mercato tutte le migliori sementi per dare ai nostri clienti il miglior prodotto possibile. La grande novità di quest'anno sono sicuramente le micorizze. So che tanti di voi non le conosceranno, sono un inoculo di funghi, quindi un insieme di funghi buoni che aiutano la radice a svilupparsi molto più a fondo all'interno del terreno e in maniera più ramificata. Di conseguenza avremo una pianta che resiste meglio alle carenze idriche, alle carenze nutrizionali e in generale una pianta più produttiva. Lato positivo è che è un prodotto biologico e che previene fortemente le malattie dell'apparato radicale perché prende fisicamente il posto dei funghi cattivi. È in grandissima crescita anche l'orto sul balcone oppure su spazi pavimentati. Possiamo coltivare i nostri ortaggi preferiti attraverso dei vasi. Vi posso sicuramente consigliare dei vasi belli capienti, chiaramente ne troverete un vasto assortimento e possiamo andare a scegliere poi se inserire pomodori, zucchine, cetrioli, melanzane o peperoni. Chiaramente anche questi sono tutti prodotti coltivati direttamente da noi a chilometro zero. Abbiamo un vasto sortimento di pomodori con oltre 16 varietà. Una di queste, forse una delle più interessanti, è sicuramente il San Marzano Cornabel. È un San Marzano dalla forma molto allungata e dal sapore antico che vi consiglio fortemente di venire a provare. Grazie!